Riunione sui rifiuti con la sindaca Cecilia Francese, con il consigliere comunale Francesco Marino, gli assessori Stefano Romano, Carolina Vicinanza, Pietro Cerullo e Stefania Vecchio. Oltre al dirigente del settore avvocatura Giuseppe Lullo, l'amministratore di Alba Palmerino Belardo, il comandante dei vigili Gerardo Iuliano e il responsabile della protezione civile Michele Mattia e delle guardie ambientali. Le decisioni prese sono quelle di aumentare il numero delle guardie ambientali e organizzare una sede stabile, di potenziare in maniera decisa i controlli e le multe, di verificare ed attuare i dovuti provvedimenti nelle zone centrali e di periferia in cui si sospettano dimore abusive per le quali si verificano illeciti depositi di rifiuti oltre che evasione di tributi. La Polizia Comunale ha inoltre effettuato due verbali a conduttori di cani senza guinzaglio per un totale di 300 euro ed ancora altri due verbali sull'ordinanza che obbliga di differenziare i rifiuti per un totale di 300 euro ed un verbale per abbandono di rifiuti, sempre 500 euro. Due ispettori ambientali in forza alla protezione civile hanno colto in flagranza di reato una persona che sversava all'altezza della rotatoria del cimitero nel canalone che costeggia via Luigi Sturzo rifiuti di vario genere della categoria rifiuti speciali non pericolosi che trasportava in un carrello di fortuna. È stata immediatamente chiamata la Polizia Municipale che ha provveduto dapprima al riconoscimento dell'uomo e poi ad effettuare denuncia penale.